Il progetto Slow Move sulla mobilità sostenibile ha preso avvio. I rappresentanti di tutti gli enti coinvolti si sono riuniti a Palazzo Natta a Novara per un incontro sulle azioni da compiere. Queste attività, finanziate con il programma Interreg Italia-Svizzera, puntano a sostenere la fruizione dei percorsi d'acqua e ciclopedonali lungo l'asse del Lago Maggiore, del fiume Ticino e dei canali fino a Milano. Il valore complessivo delle attività, da completare entro il maggio 2022, è di 1.750.000 euro. La stragrande maggioranza dei contributi, 1.680.000 euro, andrà a provincia di Novara, capofila nazionale, consorzio di bonifica Esticino-Villoresi, ente di gestione delle aree del Ticino e del Lago Maggiore, Regione Piemonte, Lombardia, Parco Lombardo della Valle del Ticino e Comune di Casteletto-Ticino. I restanti 73.000 euro saranno spesi dall'Associazione Locarno Milano-Venezia, capofila Elvetico. Ha spiegato Michela Leoni, vicepresidente della provincia di Novara. L'obiettivo è di stabilire interazioni tra le vie d'acqua, favorendo il turismo e la tutela dell'ambiente. Il Comune di Casteletto-Ticino realizzerà un bike hotel, riqualificando il vecchio palazzo municipale. Saranno ricavate quattro camere per un totale di 12 posti letto, più cucina, sala da pranzo e spazi per i cicloturisti. Il via ai lavori è fissato per la primavera 2020. Il costo è di 320.000 euro, di cui 228.000 coperti dall'Interreg e l'altra quota dal Comune. Il Parco del Ticino e del Lago Maggiore studia invece un percorso ciclopedonale ad anello a cavallo delle due regioni, tra Varallo-Pombia e Sommalombardo. Altre iniziative piemontesi riguardano l'installazione di bacheche sull'idrovia nelle aree portuali da l'ESA sino a Varallo-Pombia. Questi territori hanno grandi potenzialità, ha osservato Nicolò Salvioni, presidente dell'associazione Locarno-Milano-Venezia. Nel nord Europa ci sono tante persone che aspettano di scendere in battello in bike da Locarno a Venezia. E' bene che si realizzi anche la conca di Porto della Torre a Varallo-Pombia.